A questo punto è diventata una questione personale, tra me e il gioco brain test, non ho intenzione di darmi per vinto finchè non ne vedrò la fine porca di quella cutretola scurreggiona, quindi adesso ci applichiamo per finirlo, va bene, ce la possiamo fare, siamo arrivati a livello 56, io non so quanti ce ne sono ancora, quello che vi dico è che sicuramente faremo altri giochi, me ne avete suggeriti tanti, giochini per il cellulare, suggeritemene ancora, Giochini stupidi, simpatici, quello che vi pare, enigmi o anche altro, a livelli, magari così no, capito, andiamo avanti insieme, è più bello, ricompensa bonus, no abbiamo comprato le lampadine quindi va a fanquicquero, allora, livello 57, forbici devono vincere, quindi tagliamo la carta e togliamo i sassi, fuori dallo schermo, non si possono togliere, ma se non li possiamo togliere non vincono le forbici perché la roccia batte la forbica, Ah, sono un mannaggia, aspetta, bisogna riavviare, ho sbagliato, non si può? Ah, ok, 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 allora, qua praticamente tu devi prima eliminare la pietra con le carte, e poi, tagliare, ah, vedi, questa, qua ci vuole un certo livello di intelligentismo comunque, Ferma l'invasione aliena, ma io che ho in mano? Un gelato? Una pistola aliena? Come devo fare? Devo sparare non ai gatti grassi, ma agli alieni grassi? Ecco, è vera, questa non è un enigma, è una fesseria, eh, cioè, ma io mi domando, i gatti dovrebbero tenersi alla larga da un campo di battaglia, eh sì, eh sì, poi si mettono in mezzo come Alex che occupa pure, vabbè, però, mi domando, se questo genere di enigmi sono al livello 60, perché noi siamo al 60, quanto dura questo gioco? E' questo che io vorrei sapere, aiuta questo povero ragazzo, per favore, cosa gli è successo? Gli fa male il sedere? Spostiamo il cartello dei maschi? No, eh, aha, vedi, ho tolto la gonna, non si fa, però, insomma, dal cartello, così lui può andare lì, meno male, son proprio bravo, come può essere corretto? E che ne so io? Non può, se, se, scassiamo, guarda, se, aspetta, così, no? Se spariamo, vedi, invertiamo i per, i per in più, e diventa 15 più 15, beh, fa 45, ma è troppo facile, eh, cioè, per un periodo mi stavano, non voglio la ricompensa bonus, no, voglio andare avanti, ah, questo è difficile, allora, questa è una sfida per i nostri cervelloni, state concentrati, cosa succede? Una volta in una settimana, due volte in un mese, mai in un giorno, boh, aspetta, allora, cosa succede? Una volta in una settimana, due in un mese, e mai in un giorno, io l'ho capito, voi l'avete capito, mamma mia, qua chi l'ha capito è un cervellone pazzesco, chi non l'ha capito non deve prendersela, perché è veramente una cosa difficilissima, eh, ma proprio, super difficile, una volta in una settimana, E la lettera E, perché, capito, in un mese c'è due volte, mese, e in un giorno non c'è mai, quindi è solo E, mamma mia, guarda una cosa, il cricetto demoniaco stesso, vedi, si inchina, si scionfa, al mio cospetto, meglio non dargli fastidio comunque, l'ho abbassato, aspetta, ecco, ora è tornato bello vigoroso, Ok, bene, successivo, elimina cinque fammiferi, fammiferi, per creare una I Cinque, una I E come, come cavo, non ho capito Allora, aspetta, elimina cinque fammiferi per creare un, un, un uno One, ah, sono un genio, one in inglese, one, così Andata, no? È giusto Perché non è giusto? Uè Beh, come no? Elimina cinque fammiferi per creare un uno Era giusto Allora, un, un fiammifero Poi, questo deve andare Così No, ho sbagliato, no, è giusto Mannaggia a me, ho sbagliato, ho sbagliato, aspetta Qua bisogna avere le dita sottili, io ce le ho un po' grassocce Allora, uh, ma qua mi si è rotto Non me l'ha resettato bene Mannaggia, mamma mia, mamma mia Ok, manteniamo la calma, sennò qua va a finire male, eh Allora, qua è uno One Così è One Perché non va? Non ho capito On È giusto Non lo so Non è, ah Perché lo vogliono in italiano, hai capito? Aspetta, aspetta che qua sto spisciando tutto un attimo, eh Ma ce la Però andava bene Perché qui tu devi fare così Guarda, U Poi questa è la N E questa è la O Ma guardate Però Ma porca mia Andava bene anche prima E che cos'è questa rana? La rana che muore di fame Non è di sicuro la rana che muore di fame È grassissima Guardala là, tutta spanzata Non è Aiuta questa rana a volare Non potrà È troppo grassa Non riuscirebbe mai Dovrebbero agganciarle un motore a propulsione Come faccio a farla? La ribalto Così Non vola È impossibile Cioè le dovrebbero crescere due ali gigantesche da arcangelo Cioè non Non c'è la possibilità Posso spendere delle lampadine Però prima riflettiamoci un attimo Allora Aiuta questa rana a volare Non so Posso urlarle Muore di fame Magari si spaventa e vola via Oppure Tipo Picchiarla così Magari In grandì Rimpiccioli Scuotere Scapovolgere Boh Usiamo il bonus Falle trattenere il respiro per un po' Così Ah Si gonfia È diventata un sedere Com'è possibile? Che magia È una stregoneria Devi aver visto Shrek Eh non l'ho visto io Shrek Cioè lo conosco Però non l'ho mai visto È un peccato Lo dovrei vedere Molto bello Vabbè Il nostro gatto ha ancora fame Eh quello è Alex Sappiamo tutti Non c'è neanche bisogno di dire Vuoi mangiare Giorgio? Purtroppo Succede sempre Tutti i giorni Noi parliamo su un programma Dove si parla Di chat vocale Arrivo lì E cosa trovo? Subito Alex che si è mangiato Giorgio Tutti i giorni Quindi io devo dire Sputalo E sputalo Così Gli devo dare le pacche sulla testa E poi lui sputa Giorgio Tutto sbavato Giorgio Poverino Poi deve fare una doccia Una schifesta Infatti si perde un sacco di tempo Vabbè Quindi Lui ha ancora fame comunque Quindi noi dobbiamo Prendere un fiammifero Accendere il fiammifero Dar fuoco al cannone Sparare a Giorgio Che poverino Una cosa raccapricciante Però Silvestro diventerà presto bene Dai Dai Insomma Poi non si ride sull'obesità Perché è una cosa seria Però Silvestro Vabbè Lasciamo stare Dai Via Scegli una ricompensa Buona Io non voglio niente Stavo a posto così Perfetto Voglio nove caramelle Questo è sempre Silvestro Apriamo Aspetta Non so se ci sono Nove caramelle però Come Non sa Come si fa Ah E quante ne sono uscite Un bel po' Odio quelle scade Eh si Sono zozzone Siamo a livello 66 Ancora sta andando sto gioco Mi sta stupendo Tocca i numeri dal più basso al più alto Allora dal più basso al più alto Penso che voglia dire così Perché È stupido sto gioco Usa sempre gli stessi trick Quindi poi dopo Dopo che impari due o tre cose È È molto semplice Capito Non dirmi Hai dimenticato di comprare il suo regalo di compleanno Eh Mannaggia Mannaggia L'ho proprio dimenticato eh Eh Quindi niente Niente C'ho niente Il regalo Ah sono un genio Mamma mia Mamma mia Che cosa incredibile Com'è possibile Non ne perdiamo una Il regalo giornaliero può fare miracoli Eh si Tocca gli animali dal più piccolo al più grande Allora Questo non è un animale Però Metti caso che c'è una zanzara Eh Poi questo Questo e questo Eh Non era così Allora Ricapite C'è il topo Poi l'albero Poi il leone E l'elefante Neanche Allora Prima questo Poi questo Poi questo E poi questo Ma cos'è il più piccolo allora Non so Allora C'è un elefante Che è sicuramente Poi c'è un leone Però Nell'albero Non è che nell'albero Secondo me c'è qualcosa Nell'albero Vabbè Dovrebbe essere così Ma non è Indizio Ho detto animali E quindi l'albero Lo devo ignorare proprio Mannaggia All'albero No poverini Gli alberi Greta Poi si arrabbia No è bravi gli alberi Però Non era un animale Eh Mannaggia All'albero No Togliamo Non li voglio I bulbi Là Le lampadine Come può funzionare Quest'equazione Non funziona Non mi frega niente Mille Più cinquanta E Ecco Non lo so Se capovolciamolo Schermo No Così Neanche Se sposto Qualche zero Magari Neanche Tocco tutto Quanto No Se tolgo Aha Ma bravissimo Io Fatto a caso Però Comunque molto bravo Aiuta la mamma Leonessa Qual è il suo problema? Che il marito Dorme Eh Ma che Soluzione è questa? Ci ho spostato La criniera E così si risolvono Le cose in natura? Viva la parità Di genere Sì Però Non c'entrava niente Questa cosa Vabbè Quanti quadrati ci sono? Eh Un Un Truigiferio Cioè Tantissimi Tanti Tanti Boh Uno Mamma mia Era zero Sono fortissimo Spero che tu non abbia provato a cercare un quadratio No Io Ma sei matto Premere il pulsante cento volte Davvero Davvero devo farlo Guarda che io mi ci metto E Divento super saiyan A forza di premere Nei giochi dove si doveva premere Ero fortissimo Era una cosa tanta Ma guarda Vabbè una cosa Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Secondo me Non sto premendo un accidenti Niente Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Oh l'ho fatto È incredibile Spero che tu non abbia provato a premerlo Certo che ho provato a premerlo cento volte C'era scritto Cosa dovevo fare Ha funzionato Non mi dire che bastava premerlo una volta Perché mi arrabbierei Siamo a livello 73 Non finisce Non finisce Il pescatore sta passando una giornata terribile Aiutalo a pescare un pesce E Non so pescare Quindi Boh Ti arrangi Non so Ah Spaccato le mele In una mela magari c'è il verme Eccolo là il verme Il verme è una cosa Pesca lo pesce Perfetto Bravissimo Siamo arrivati al livello 74 E il gioco non sembra terminare È una cosa assurda Qualcuno di voi l'ha finito E mi sa dire a quanti livelli arriva Questo è brain test Boh Vabbè Per questa volta ci fermiamo E lo faremo un'altra volta Lo finiremo Dobbiamo finire Per forza Lion Out Perfetto